E' davvero raccapricciante quello che è successo nel giro di una settimana ben due volte. Io domenica insieme alla Giunta sono andato a messa presso la parrocchia di Via Marmolada proprio per rappresentare la vicinanza dell'amministrazione a tutta la comunità e a tutta la comunità abbiamo dichiarato la nostra volontà di dare il nostro contributo per il recupero della parrocchia, per non darci vinti nei confronti del gesto davvero insano e folle di qualche mente deviata che davvero non si rende conto di quanto è importante un presidio come una parrocchia all'interno di una comunità importante come quella di Via Marmolada. L'attenzione massima, io stamattina sono stato anche a parlare col prefetto, ho parlato col comandante provinciale dei Carabinieri, nonché col comandante della compagnia dei Carabinieri di Montesilvano perché io per primo, ma tutta la comunità montesilvanese si aspetta un segnale forte per individuare il responsabile o i responsabili di questo gesto davvero che non merita nessun commento perché si commenta davvero da solo. Più volte avete chiesto anche un posto fisso di polizia. Sì, continueremo a reclamare il posto fisso di polizia per quella che ormai nei numeri è la seconda città d'Abruzzo come presenza sul territorio perché riteniamo che l'uomo in divisa è il deterrente maggiore e più importante nei confronti di chi vuole delinquere. Stamattina anche insieme al prefetto ne abbiamo parlato di questo e continueremo a lavorare affinché il Ministero prima o poi ci conceda l'apertura di un posto fisso di polizia per andare a integrare, a rafforzare il lavoro eccezionale che hanno svolto in tutti questi anni i Carabinieri di Montesilvano. e vogliamo cercare di garantire al cittadino maggiore sicurezza perché maggiore sicurezza significa maggiore tranquillità e più libertà di vivere il proprio territorio.